Mi trovo in superstrada direzione Ferrara Vedete là in fondo c'è quel fumo bianco, mi sto intossicando, c'è qualcuno che sta grippando il motore Adesso andiamo a raggiungerlo, solo che non posso superare i limiti Sta facendo un fumo atomico, si vede anche nello schermo, vedete E' una cosa impressionante, sta bruciando una cinghia o qualcosa Penso sì a questo camion, attenzione, guardate il fumasso che sta facendo Mamma mia Guardate qua, camion rumeno Bruciatone assurdo E' una roba incredibile Comunque resiste, non ha ancora grippato, ma secondo me è questione di qualche chilometro C'è un odore incredibile Bene Ho un po' d'aria fresca Alla prossima